numero 5 set di tre contenitori impilabili per la raccolta differenziata con grande capacità e dotati divano porta sacchetti il set è modulare e componibile secondo le proprie necessità permette l'utilizzo di diverse forme di sacchetti ogni singolo contenitore ha una capacità di 27 litri il set è disponibile anche con quattro contenitori se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione numero 4 set composto da tre contenitori per la raccolta differenziata il set è utile per una raccolta differenziata ordinata permette l'utilizzo di diverse forme di sacchetti il set offre grande capacità ed è impilabile per risparmiare spazio in casa ottimo articolo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 set pattumiera per raccolta differenziata composto da tre contenitori impilabili il set è disponibile nei colori nero e beige facile da montare ideale per una raccolta ordinata e per sfruttare al meglio lo spazio in casa il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione numero 2 set di tre pattumiere colorate da 20 litri per carta vetro e plastica ideale per una comoda classificazione dei rifiuti in casa design moderno e funzionale i coperchi sono rimovibili per facilitare il posizionamento del sacco della spazzatura e dispongono di alette colorate per classificare specificatamente i rifiuti ogni secchio dispone inoltre di maniglie per un facile trasporto possibilità di posizionare un contenitore sull'altro per risparmiare spazio il set è disponibile in diversi colori in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 1 ottimo set costituito da 4 contenitori colorati per la raccolta differenziata realizzato in polipropilene e disponibile in diversi colori il set impilabile è ideale per sfruttare al meglio lo spazio in casa resistente e durevole nel tempo acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione